Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta allo yogurt e albicocche. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, yogurt all'albicocca, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta di limone o scorza di limone, sale, confetture di albicocche e albicocche tagliate a metà. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere prima l'olio e poi lo yogurt e aggiungere la farina. la fecola, la vanillina, il sale, la pasta di limone e il lievito ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Versare il composto in una tortiera da 26 centimetri ben imburrata. posizionare le albicocche polverizzare le albicocche con lo zucchero semolato posizionare un cucchiaino di confettura sopra ogni albicocca cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti fare sempre la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo spolverizzare con zucchero a velo e servire torta allo yogurt e albicocche grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.